pubblico. Quando si parla di flessibilità, io vorrei ribadire a chi ci ascolta che quando l'Italia ottiene più flessibilità non è una concessione all'Europa, è l'autorizzazione dell'Europa ad aumentare il nostro indebitamento pubblico, quindi appesantiamo la nostra posizione per i nostri figli e questo è giusto saperlo. Ma questo proprio io lo contesto radicalmente, intanto la concessione, un po' perché come sa ho frequentazione con l'istituzione europea, essendo europarlamentare, la battaglia che noi stiamo conducendo è una battaglia seria, non è una concessione al governo italiano, è una battaglia per far cambiare la politica economica dell'Unione Europea e dell'istituzione europea. So che Stefani apprezzava D'Arroso evidentemente, apprezzava l'Europa delle austerity, apprezzava l'Europa che faceva una politica diversa. Noi stiamo provando a condurre una battaglia diversa, cioè a dire che l'Europa finalmente deve fare investimenti, non deve essere più conosciuta come quella istituzione cattiva, matrigna e lontana che vessa i comuni e i cittadini europei, e su questo stiamo conducendo una battaglia seria che, ripeto, non è una concessione al governo italiano, è una richiesta di inversione della politica fiscale che viene fatta. Però ci terrei, visto che sono state dette tante cose, anche a inserire un elemento di riflessione per tutti. Qua discutiamo di sanità e di diritto alla salute, che è un diritto peraltro che viene sancito anche dalla nostra Costituzione. Allora vorrei ricordare che la sanità è stata, diciamo, regionalizzata, bene, e questo elemento è un elemento di cui si discute troppo poco e su cui si interviene, per esempio, con il nuovo referendum. Io vorrei che questo diventasse, per esempio, un elemento di dibattito serio. Cioè il diritto alla salute è un diritto, si direbbe, o così dovrebbe essere, universale, cioè garantito a tutti i cittadini senza alcuna distinzione. E lei pensa che tornando in capo allo Stato questo migliora. Assolutamente sì, perché che cosa si sancisce per la prima volta? Se passa questa riforma il 4 di dicembre, verrà stabilito che questa funzione ritorna, diciamo, in capo allo Stato la tutela della salute. Cioè quando le regioni non hanno la capacità di gestire come si conviene, è come giusto il diritto alla salute, che ripeto, è un diritto che deve essere garantito a tutti quanti. Interviene lo Stato. Interviene lo Stato e siccome ci sono... Allora so che Schifani vuole concludere il suo ragionamento, mi devo pregare soltanto di essere un po' più sintetici negli interventi perché io vorrei sentire tutti, voglio tornare anche da Landini, prego.